...paura nel pomeriggio a Crosano di Brentonico per l'esplosione di un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, ordigno che si trovava nell'abitazione di una collezionista sempre di Crosano, lui si chiama Ettore Milani, che ha riportato ferite gravi alla mano e alla gamba. È stato però l'uomo anche denunciato dai carabinieri per possesso di armi da guerra. Nel suo garage infatti è stato trovato un vero e proprio arsenale che sarebbe potuto esplodere. C'erano sei bombe a mano, sei ordigni risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Una dunque, come detto, l'esplosione set a tratto di una granata. Vediamo la grande paura in paese a Crosano di Brentonico. A Crosano di Brentonico, nella cantina di un'abitazione privata, esplode una granata della Prima Guerra Mondiale. Ferito il collezionista Ettore Milani, 40 anni, che armeggiava con l'ordigno nella sua abitazione in via San Biagio numero 51. Il boato è stato talmente forte da spaventare tutto il paese. L'onda d'urto, talmente violenta, da spaccare i vetri delle abitazioni vicini. Ettore Milani, già noto alle forze dell'ordine per la sua passione di collezionista di antichi ordigni, è nella sua cantina. Armeggia con quella che sembra essere una bomba dall'esplosione. Il colpo è fortissimo. Sono le 15 e 30 circa quando viene dato l'allarme. I vetri delle finestre delle abitazioni vicini si spaccano, la gente ha paura. Il garage di Milani esplode, viene giù anche un muro. Si levano le fiamme sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri di Brentonico, che bonificano poi la casa. Milani è ferito, l'elicottero lo porta in volo al Santa Chiara di Trento, è ferito le gambe e dalle mani perde le dita. Grazie.